Signore e Signore, buonasera. Benvenuti alla 32esima edizione del torneo di calcio giovanile Memoria Massimo Bianchi, riservato alla categoria A.D. Da alcuni minuti avrà inizio il conto tra le squadre della Settignanese e della Floresta. Al titolo della gara è il signor Silvento di Firenze. Leggiamo la informazione. Settignanese, agli ordini dell'ordenatore Tonali con il numero 12 di Guerrini, Guerrienza e 13 di Bolleggiani, numero 1 Martellucci, 2B, 3M, 4M, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11. Floresta, agli ordini dell'ordenatore Bosquadini con il numero 13ずco 10, 14, 15, 15, 15, 16, 15. Con il numero1 Mal Buonga Presidente Grazie a tutti Grazie a tutti